Ciao Federico, è un pezzettino che non ci parliamo e non vorremmo che ti dimenticassi dei nonni italiani e argentini. Noi siamo in Argentina, abbiamo sei ore di differenza tra te e noi. Se tu vai a vedere la tua mappa nel muro, ti rendi conto di quanto tempo serve al sole per passare prima da te e poi arrivare a noi. Sono sei ore, vuol dire che il sole che vediamo noi è quello di sei ore fa e puoi vederlo fisicamente controllando la tua mappa nel cielo. Siamo qua nel fiume che dopo ti facciamo vedere. Come vedi qui è estate e qui sai è bello perché in effetti tu sei al fresco, noi siamo al caldo e mangiamo la cocomera, le fragole, i meloni e come vedi... È un caldo bello, non è un caldo che si sta molto bene. Non è un caldo come quello che c'è a Ferrara perché non è molto umido però il tempo è molto bello. Raccontaci come stai andando a scuola, se è arrivato il Natale, se hai scritto a Babbo Natale perché fra un po' dovrebbe arrivare. Noi dobbiamo saperlo e avvisare Babbo Natale eventualmente che cosa ti deve portare. Dobbiamo dire anche se lo aspetterai a Ferrara. Ecco, e anche noi ti aspettiamo e faremo l'albero di Natale probabilmente via telefono. Intanto tu lo fai nella tua casa nuova e noi lo facciamo a Ferrara, va bene? Un abbraccio, ti aspettiamo, abbiamo voglia di vederti e ti vogliamo bene. Saluta il Babbo e la Dedusca, saluta la mamma e manda un bacione al papà da stare lì. Ciao, 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 ciao.